Sì, grazie Presidente. Guardi, è molto interessante fare questo intervento in dichiarazione finale, perché da quello che hanno sostenuto le opposizioni c'è da dire che io mi vergognerei per loro. Si parla di sfida e un minuto dopo si viene smentiti. Quindi non si considera affatto la difficoltà che questa città sta affrontando. Io vorrei ricordare a tutti che l'11 dicembre c'è stato un incendio all'impianto del salario. Oggettivamente, bisogna dire la verità, sul tema dei rifiuti è il tema sul quale stiamo avendo più difficoltà. Ma quando ti incendiano un impianto, provano a incendiarti un altro impianto, quando ti incendiano 600 cassonetti, vuol dire che dietro questo tema c'è la mafia. Questo è il punto. Una delle difficoltà che noi abbiamo a gestire questo tema è proprio quello che qualcuno sta contrastando questa amministrazione in modo molto pesante e grave, tanto che la Procura sta indagando. Poi ci viene detto, dice, ma la città è sporca, dunque voi dichiarate il vostro fallimento. Forse non hanno idea che in tutta Italia c'è un fenomeno di sversamento e lecce di rifiuti. In tutta Italia ci sono sistemi di videosorveglianza per controllare i cittadini che non sversano i rifiuti in modo corretto. È ovunque, è un fenomeno nazionale, non è un fenomeno romano. Per cui non c'entra nulla, nulla l'incapacità. Noi sappiamo che in quei comuni dove hanno fatto un ottimo lavoro questo fenomeno si diminuisce, ma non arriva mai a zero. Per cui riesci a risparmiare tanti soldi controllando con la videosorveglianza, ma non lo porterai mai a zero. Poi, sinceramente, trovo a di poco incomprensibile certi interventi che dichiarano che neanche ci sono riferimenti normativi. Ebbene, io vado nelle premesse della delibera, dove c'è scritto l'abbandono e lo smaltimento illecito dei rifiuti sono violazioni al testo unico ambientale espressamente sanzionate sia dagli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 152 e 2006 che all'articolo 65 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani di cui è la deliberazione del Consiglio Comunale 105 del 2005. Beh, allora, chi fa questi interventi vuol dire che forse non ha neanche letto la delibera. Io poi mi preme poter sottolineare, ricordo perfettamente quando Fratelli d'Italia presentò l'emendamento anzi, l'ordine del giorno per l'acquisto di fototrappole. Noi non bocciamo quell'ordine del giorno, ci astenemmo perché in quel momento l'acquisto di fototrappole non era la cosa ideale per questa amministrazione, perché questi sono strumenti molto leggeri da un punto di vista energetico, ci vuole qualcuno che va una volta a settimana a cambiare la batteria, a prendere le immagini, che guardi le immagini. Nel panorama dell'organizzazione di Roma Capitale era tutto molto molto complesso, per cui in quel momento noi abbiamo pensato che la cosa migliore da fare era astenersi a quell'ordine del giorno. Successivamente abbiamo scoperto delle società che noleggiano il servizio di fototrappole, per cui ti offrono non solo la fototrappola, ma la persona che va a cambiare la batteria tutte le settimane, la persona che in questo caso specifico va alla Sala Sistema Roma e controlla le immagini, per cui ti dà soltanto le immagini degli sversamenti illeciti. Solo per controllare una fototrappola ci vuole almeno un'ora e mezza, per darti un paio di minuti della persona che ha sversato in modo illecito i rifiuti. Tra l'altro, ve lo dico, c'è anche l'assicurazione nel caso in cui la fototrappola è danneggiata o viene rubata. Quando abbiamo capito che c'era questo tipo di opportunità, allora abbiamo detto che questo è lo strumento giusto per questa città. E questo noi stiamo perseguendo, perché con questa modalità riusciamo effettivamente a far funzionare il sistema. Per cui quella volta noi ci astenemmo perché pensavamo che quella... Chiara, le chiedo di andare a concludere però. Chiudo subito. Bene, vado subito alla dichiarazione di voto che ovvio è favorevole. Vogliamo aumentare i risultati che sono stati ottenuti fino adesso, aumentando le persone che si dedicano a questo lavoro e dando tutte le strumentazioni necessarie per far sì che questo fenomeno sia... diminuisca nella città per abbattere i costi di questo fenomeno, ma soprattutto per avere una città più pulita. Grazie.